DS, servizi finanziari, è la soluzione alle vostre esigenze economiche. Se siete pensionati, dipendenti statali, pubblici o di altre aziende private, con altri impegni in corso o rate problematiche, DS prima realizza i vostri sogni e poi vi manda in vacanza con IperClub. E allora cosa aspetti? Basta una telefonata. 0, 8, 1, 8, 7, 0, 5, 2, 0, 0.